Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video di Happy Wheels con i livelli online iniziamo subito perchè non vedo l'ora di giocare iniziamo con i rope swing primo rope swing perchè mi hanno chiesto anche dei miei amici se potevo fare un'illustrazione allora per staccarsi dall'inizio bisogna schiacciare Z e per attaccarsi alla corda bisogna schiacciare la barra spazzatrice quindi maiuscolo si mette in sta posa qua scalatore professionista anche se non lo è e poi ci buttiamo se premiamo teniamo per minuto la barra spazzatrice continua a restare attaccato invece se la molliamo si stacca è il più bello un bel muro in faccia la prima mattina ti sveglia proprio 100% 3 giorni dopo ah c'è ok questo simbolo è quello della vittoria adesso ne faremo un altro ne facciamo uno epico epico no anzi si epico epico quando ne lo facciamo questo mi sembra epico questo è epico guarda i propri colori boom oddio oddio cos'è sta roba c'ho paura no le corde si queste qua sono le migliori due ma poi anche un po' sotto lì il gioco la schermata vi metto i tasti i tasti z è per mollarsi shift è per mettersi così control boh non lo so control è così stessa roba oddio ho aperte pezzi di pezzi si come nell'altro video che c'era la bambina morta che mi faceva gli scherzi oddio no non lo faccio di nuovo è troppo difficile ok prossimo facciamo questo che ha tantissime stelline però io ne facciamo uno pieno eh si mi piace leggere proprio no 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 devi devi farcela amico anche senza gamba ok proviamo con le gambe boom e la sferona azzurro giallo ok uno due wireless oddio cattivissimo me bum 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 si si capisce no 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 petola petola cos'è c'è scritto petila ma che schifo ok ok aia le gambe vi senza gambe mi sembra ok andiamo nel menù e facciamo uno con stelle piene se lo troviamo ecco questo 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 ne ha tante ne ha di più ne ha di più oddio ok andiamo avanti no ancora questo ma come ma come è questo qua infatti no 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 ma tutti uguali cioè allora scelgo quello questo che ne ha una in più inizia così beh vediamo com'è ma è uguale ma che no no facciamone uno diverso diverso lo sword throw è un po più complicato lo sword throw perché non c'è da schiacciare zitta e altra roba allora ecco bene inizio bisogna schiacciare barra spazzatrice per prendere ahia ce n'è una nel culo per prendere le spade e muovendo i bracci ah ma è così muovendo i bracci in qualche modo si butta giù la gente così boom ecco però devono cadere no 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 ecco e se vi arrivano le cose in faccia quindi è una bella vita ah questo è un colpo uccidiamo il ninja ah proprio bene poi facciamo questo qua mi sembra figo tombam anzi no eh si 3000 madonna ha spruzzato vino anche la vecchia vecchia in testa tremila un altro si poi nice prendiamo quello nice mmm che male non so cosa ho provato in quel momento no 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 ecco 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 grazie 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 voi siete degli amici proprio al massimo prendiamo la cicciona no ma ma tutto è su di lui proprio la cicciona voglio ma la cicciona ma come dai è quella che c'era all'inizio nella prima puntata poi c'era il vecchio che c'è dietro oddio oddio non morirò ok ma come ma dai mi cedono me le mie spade tornami in testa me ok non posso urlar tanto usare un tono di voce del genere perché i miei fratelli sono a letto e le sera e spero di farvi un po' corti perché sennò ok proviamo facciamo altri due livelli e poi li devo riprendere perché non posso fare altri livelli lunghi se no ne ho ne ho debita no no ok cambiamo livello perché questo è impossible come dà il nome facciamo questo toba ecco quello che dicevo prima e c'è anche mia sorella col suo furbi che deve oh col suo furbi che deve andare a letto e quindi scusatemi se rompono tutti le balle proprio adesso non dire tutte le parole se no ti dirò le reti no ok oh oh metà metà no petolotto no non lasciarti petilla si chiamava petillo prendiamo babbo natale Santa Claus is coming ah che male oh babbo natale oh ehi ehi immune a tutto no 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 prendi lì oddio cos'è successo riprovo l'ultima volta ok ok allora ho preso babbo natale ah 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 la sta morendo io ecco babbo natale è questo che ti serve ah in testa giusto mangiati quel piede mangiati quel piede mangiati quel piede ah no voglio andare giù adesso è finito il video no adesso non finisco mi rimane un minuto di video un minuto oh vuoi il suo foro più schifoso che lo riacciamo ah voglio una nutella voglio una nutella voglio una nutella voglio una nutella ok facciamone un altro l'ultimo questo word throw miserio e se riusciamo a vincere sta roba oddio oddio strage oh no ciao grazie per avermi aiutato in questo modo oh 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 si no 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 eh si madonna cosa mega strage ok boom 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 ah ok prendiamo la cicciona che cade addosso al ciccione è un ballo da ciccioni bo 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 eccolo eccolo l'ho preso nel culo eh anche la donna ho preso oh mi rimangono poche spade devo prendere Luke 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 oh due spade due spade due spade si questa no vai 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 questa si questa si seee weee weee perchè non cadi perchè non cadi perchè non cadi perchè non cadi ok e con questo può essere tutto spero e ricordatevi di iscrivervi al canale commentare il video e alla prossima ricordatevi di anche mettere dei bei mi piace e condividere addio ciao 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 ciao